Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmica, sono qui a portarvi un nuovo Squad Builder che è ragazzi una squadra devastante, ma la cosa bella è che è molto molto originale ed è una BSG, cioè Bronze, Silver e Gold, una ibrida veramente strepitosa, forte in difesa e molto forte anche in attacco. Ho usato il 4-1-2-1-2 che tra l'altro ho usato anche nell'ultimo Squad Builder, mi sono trovato molto bene la squadra gira benissimo e come ho detto prima molto originale, quindi molto divertente da utilizzare. Andiamo subito con il portiere, il portiere è oro ed è probabilmente uno dei miei preferiti di questo gioco cioè Joe Hart, non so se questa è la versione upgrade, penso di sì, comunque Hart è veramente un portiere strepitoso fa delle parate meravigliose in 4 partite che ha utilizzato questa squadra, ha subito solo 2 gol se non sbaglio forse solo 1, no 1 gol, 1 gol solo in 4 partite ha subito, quindi per farvi capire quanto è forte la difesa e comunque quanto è forte Hart perché fa veramente dei grandi salvataggi. Poi, terzino destro, qualità argento, dobbiamo un po' impostare se no ci mettiamo un'ora Fanny che comunque si trova sul mercato, non si trova la versione difensore centrale ovviamente gran terzino, veloce, discreto passaggio ma molto forte in difesa e fisico quindi ve lo consiglio poi anche molto alto, quindi di testa le prende, non si fa superare di fisico, di velocità costa tanto, è vero però, veramente forte. Poi, difensore centrale di destra è Oro, cioè uno dei migliori company che è uno dei migliori difensori di questo gioco, è veloce con una difesa strepitosa, fatto anche un gol ma comunque molto pericoloso sui calci d'angolo in area avversaria perché si inserisce sempre di testa rischia sempre di fare gol, non so come abbia fatto a fare due assist. Poi, come compagno di reparto ho usato un giocatore non raro che quest'anno forse non aveva ancora provato adesso ci metteremo un po' a trovarlo chiaramente perché è non raro, qui c'ha 2000 giocatori è comunque francese e si tratta di Kabul versione Sunderland, ricordate perché se no non fa intesa, versione Sunderland forte, devo dire che binomio difesa fisico molto buono, alto come giocatore, costa il giusto veloce quindi davvero un buon compagno di reparto per company e infine per concludere non è Oro, bensì Argento il terzino Argento che ho utilizzato è nell'altra pagina penso cioè Olebas, versione Watford, anche questo ricordatevelo molto forte, difesa buona, fisico perfetto, veloce, nei recuperi è ottimo fa anche dei buoni tiri dalla distanza grazie al suo sinistro che è mostruoso e ha anche un buon passaggio mentre ci concentriamo sul centrocampo con l'unico cdc della squadra cioè Britkat, versione Sunderland, penso che c'è ne sia anche un'altra non ne sono sicuro, un assist in 4 partite per un cdc va bene workrate da cdc puro, quindi davanti alla difesa è perfetto quindi questo è il giocatore ideale non è velocissimo, però comunque sia in difesa è forte quindi a me è piaciuto non è altissimo come giocatore, però si fa sentire in campo poi, esterno di destra è Oro cioè ho usato Alessandrini If si può usare solo la versione If perché la versione If è dalla parte opposta cioè esterno sinistro è vero che è un po' sprecato come esterno destro però nelle ripartenze è veramente micidiale questo giocatore ha un dribbling veramente strepitoso riesce a saltare gli avversari con grandissima facilità e poi comunque due assist in 4 partite per un esterno in un modulo in cui si gli esterni li usi soltanto per farti quel tratto dalla difesa all'attacco è veramente buona roba poi, esterno di sinistra ho utilizzato un giocatore che quest'anno ancora non avevo mai utilizzato cioè ne ignoravo proprio l'esistenza Ania o Ania questo scozzese sempre del Watford che mi è piaciuto anche lui due assist in 4 partite quindi stesso discorso di Alessandrini molto buono perché è agilissimo quindi quando partite in contropiede è difficile fermare questo giocatore certo non ha un gran tiro e non ha neanche un gran passaggio però comunque sia mi ha garantito due assist in 4 partite e quindi noi ce lo teniamo ben stretto e comunque costa relativamente poco mille crediti ve lo portate a casa purtroppo ha due stelle abilità questo è vero se ne avesse anche solo 3 andrebbe meglio poi andiamo con la parte più offensiva cioè il centrocampista offensivo cioè quest'anno ancora non avevo usato versione upgrade Gauld c'è la versione 66 e la versione 69 l'ho utilizzato perché lo sto usando in una carriera che sto facendo io ed è veramente un giocatore molto decisivo in carriera anche se non ha un tiro molto forte 57 è un po' bassino però devo dire che ha un'agilità che non perde mai la palla anche se è debole di fisico non perde mai la palla ha un discreto passaggio comunque un assist e un gol in 4 partite è un dribbling veramente mostruoso questo giocatore oltre ad avere 5 stelle a 5 stelle piede debole che sono pazzesche è anche un worker da attaccante quindi è sempre in posizione offensiva il problema di questo giocatore vabbè oltre al fisico è le sue stelle abilità io pensavo ne avesse 4 a dir la verità poi con 78 di Dreaming pensavo ne avesse 4 invece ne ha solo 3 e questo un po' lo penalizza delle volte però sta di fatto che è un ottimo giocatore e infine andiamo con il duo d'attacco veramente micidiale l'attaccante di destra è bronzo l'unico bronzo della squadra cioè Sako e la prima cosa che si pensa quando si usa questo giocatore è mamma mia quanto è forte Sako ragazzi questo se non l'avete mai provato provatelo anche se non penso perché è un giocatore devastante vi fa almeno un gol a partita io in 4 partite che l'ho utilizzato mi avrà fatto almeno 6 gol quindi è veramente un giocatore fenomenale prende palla non la perde mai perché è velocissimo è rapidissimo ha un dribbling mostruoso ha 4 stelle abilità ha un workhead che gli permette di essere sempre in attacco ha anche un buon fisico con una buona altezza e soprattutto un bel tiro un'ottima finalizzazione quindi questo giocatore davanti alla porta sbaglia molto molto raramente e vi consiglio di provarlo perché è veramente incredibile e completiamo la squadra con l'attaccante di sinistra che è argento un giocatore che volevo provare cioè McCormack IF l'anno scorso se vi ricordate era team of the season però se non sbaglio era oro e anche lui è un giocatore molto buono è un giocatore che ha più che altro fatto la spalla per Sacco infatti non ha fatto tanti gol però comunque 2 gol una 6-5 partite in un attacco a 2 considerando che l'altro attaccante fa più gol che partite è veramente strepitoso è un giocatore che mi è piaciuto purtroppo non è velocissimo però potrebbe fare bene anche il trequartista secondo me anzi forse sarebbe meglio utilizzare questo giocatore da trequartista costa io l'ho pagato 20.000 crediti quindi neanche tanto è un buon prezzo per un giocatore con queste statistiche che ha veramente un tiro fenomenale purtroppo non è altissimo quindi di fisico non è il massimo però anche lui è davvero un buon giocatore da provare soprattutto sicuramente da trequartista perché potrebbe fare veramente delle follie comunque raga la squadra è questa spero vi sia piaciuta come vi avevo detto è molto originale con tanti giocatori che molti ignorano e che poco utilizzano spero vi sia piaciuta come sempre vi inviate a lasciare un bel like 300 mi piace uscirà una nuova squadra un nuovo video fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuta se la proverete se l'avete provata se avete provato alcuni giocatori di questa squadra e soprattutto consigliatemi qualche squadra da portare nei prossimi video purtroppo in questo momento ho pochissimi crediti perché li ho spesi tutti quindi dovrò vendere qualcuno comunque iscrivetevi al canale pagina facebook twitter instagram tutti i link in descrizione adesso io vi lascio le clip ci vediamo al prossimo video bella raga iscrivetevi al canale Grazie a tutti